Musica Sono Franco Caffara, c'è del ristorante Pigli in Teoria. Stasera proponiamo una cucina di mare con prodotti acquistati in questo supermercato. Partiamo con un piatto di capesante con una crema di cavolfiore. Musica Prepariamoci con un cuore. Fanno il cuore di nata salata, un po' di limone. Andiamo a completare la salsa di cavolfiore. Dovrà essere ben currullata. Dobbiamo preparare un brodo, un bacio, acqua, scorze di limone, cannella, semi di anice. Si fa cuocere per circa un'oretta con della salsa di soglia. Musica Queste vengono congelate, spottate in acqua salata. E poi con un minibimer, con un lattore in pressione, con un po' di acqua di cottura, olio e qualche goce di limone. Anche lì, prima di ottenere una crema. E' un simbolo, usare per un antipasto, anche se non risotto, anche se non basso. Invece di mettere del sale, useremo la cruda di carne. Tempo Anche lì,' un po' di husa. Un po' di husa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.